Strategia digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Oggi è la puntata del giovedì, quella dove si parla del souvenir digitale Uè Gaudiano, ma cos'è che l'è il souvenir digitale? Ma come? Ancora non lo sai, è quella app, quel software, quel libro, quel video, quella qualsiasi cosa che nel suo piccolo può cambiare in meglio la tua vita o il tuo lavoro nel mondo digitale È il giorno in cui i geek come me, i nerd, gli appassionati delle chicche e dei gadget digitali esultano E infatti oggi parleremo di un plugin per WordPress che sarà capace di rendervi felici e leggeri soprattutto se non siete programmatori esperti di codice Prima di parlarne voglio però dirvi che sono in viaggio per Milano Sto per raggiungere Milano dove sono contentissimo di partecipare a un evento per me molto importante che è la presentazione del libro su Snapchat del quale abbiamo parlato ieri da parte di Alessio Beltrami e Luca Mazzucchelli che sarà seguita, anzi preceduta da un evento di Smart Networking Lo Smart Networking è un evento, è un format di evento pensato per unire la formazione al networking, alla conoscenza di persone nuove Quindi ci sono già un sacco di iscritti, ci vedremo oggi alle 4 nei pressi dell'università Bocconi per conoscerci, sentir parlare Sara Velti e Roberta Moretti del personal branding attraverso Snapchat e poi giocare insieme, conoscerci per poi ascoltare la presentazione di Luca e di Alessio che firmeranno le nostre copie del libro su Snapchat che sarà regalato a profusione durante lo Smart Networking Ragazzi, sarà un pomeriggio fighissimo Se siete a Milano, nei pressi, partecipate, iscrivetevi subito andate su personalbrandingsnapchat.eventbrite.com Comunque vi metto il linketto qui nelle note dell'episodio in modo che possiate iscrivermi tranquillamente e allora è arrivato il momento di scoprire il nostro souvenir digitale e sono particolarmente contento perché questo è suggerito da un ascoltatore uno di voi lo conoscete, è Paolo Gollo Ciao Giulio, sono Paolo Come stai? Tutto bene? Ascolta, nell'ottica della condivisione di valore Volevo segnalarti questo che è un plugin per WordPress Magari ne hai già parlato Magari potrebbe essere invece un piccolo sub-energy digitale Questo plugin si chiama Elementor www.elementor.com Ti metterò a caso il link nel successivo messaggio Di fatto è un composer Lo so, potrebbe venire su il milanese imbruttito e dire Uè Paolo, guarda che ci sono un sacco di temi come composer Non è che devi venire adesso tu a fare il fenomeno Ecco, il fatto è che esattamente questo è il problema Che molti temi hanno i loro composer E se voglio avere un composer efficace devo cambiare tema Invece qui è un casino Questo invece è un plugin che posso installare a lato del mio tema E quindi avere un composer semplice, intuitivo E che posso utilizzare in tutte le piattaforme che ho Magari già con i siti già attivi Quindi mi sembra un bello strumento Che sia per le mie attività che per le consulenze che faccio Sto cercando di capire se possono essere interessanti Ecco perché te l'ho segnalato Mi farbbe piacere una tua opinione Se invece questo tipo di informazione ce l'hai già Questo messaggio si autodistruggerà tra tre secondi Ciao Paolo mi fai morire Sia per l'autodistruzione del messaggio Sia per il milanese imbruttito Cioè ormai ve lo fate da soli Siete fantastici Allora, dicevamo Questo souvenir digitale Allora che tu ci consigli è Elementor Elementor Voglio prima di tutto chiarire a chi non fosse proprio pratico di Wordpress o di termini inglesi Che cosa è un composer Un composer è un programma che ti consente di lavorare su un'interfaccia visuale Cioè di avere delle immagini davanti, dei pulsantoni da premere, delle opzioni da scegliere E poi traduce quando salvi tutto questo in codice HTML o CSS In modo che sia leggibile dai browser ma soprattutto che sia utilizzabile da Wordpress Qual è il problema di Wordpress? Il problema è che per anni si è detto A ogni piesso spinto Dovunque si andava a chiedere informazioni su come fare un sito web Uè ma come fare? Metti Wordpress! È gratis! È facile! Lo fa anche un bambino! E allora tutti andavano a metterli Wordpress Il fatto è che non è vero che Wordpress è facile O meglio Wordpress è infinitamente più facile che scrivere un sito a manina in HTML Wordpress è abbastanza facile da gestire Se ti devi preoccupare di input dei contenuti Ma non è altrettanto facile da gestire Se vuoi uscire un attimino dal seminato Una soluzione che utilizzano molti Prima di tutto non è proprio linearissimo da configurare Se è vero che è facile installarlo Installarlo bene Configurare tutti i plugin Manutenere Wordpress non è facile Tant'è vero che per esempio Ve ne ho parlato più volte Esiste un servizio che si chiama WPOK Che utilizzo personalmente Creato dal mio collega Daniele Besana E questo servizio è pensato per dare assistenza e manutenzione a Wordpress È un servizio totalmente italiano Anche se Daniele vive ad Amsterdam Che mette una serie di tecnici a vostra disposizione In modo che dentro Wordpress quando hai una difficoltà Clicchi su un pulsante Ciccia fuori una finestrella E puoi chiedere aiuto E poi di base ti aggiornano i plugin Questo ci dice che quindi Wordpress richiede una sua tecnicità per essere gestito Mettiamo che non lo sapevate Quindi vi siete installati in Wordpress Vi hanno detto Sì, guarda, se ti compri un tema su internet è tutto semplice Un template già fatto è tutto semplice Ve lo siete installato E poi che cosa succede? Succede che volete cambiare la larghezza della colonna destra Ok? E nel plugin, nel tema, scusate non nel plugin Nel tema che avete installato Non è previsto una regolazione della colonna destra Ora un tecnico non avrebbe nessun problema Niente di più facile Va lì, apre il file E cambia l'ampiezza della colonna Scrivendo due righe di codice Anzi, un'istruzione nel codice Ma se tu non sei tecnico Che fai? Ecco, il composer entra in gioco In questo punto qua Perché ti permette Anche da non tecnico Di andare su un'interfaccia visuale Cliccare sul centro Tra colonna destra e colonna sinistra E grrrr Spostare Trascinare Il limite tra le colonne Dove vuoi Dove ti pare E avere un riscontro visivo I puristi del codice Si strapperanno i capelli Le vesti Dicendo così Mi sporchi il codice Chissà che schifezza ci scrive il composer Ragazzi, l'unica verità È che se noi dobbiamo Arrivare a un risultato Abbiamo bisogno di A volte trovare delle scorciatoie Per velocemente Ottenere quello di cui abbiamo bisogno Allora, il composer Che ci ha suggerito Paolo Cioè Elementor Il nostro souvenir digitale Ti consente di trasformare Qualsiasi template O meglio I template fatti bene Quelli La maggior parte dei template Che si trovano online Non quelli Diciamo buttati là O Fatti Gratuiti Regalati Ma quelli Che costano Una cinquantina di dollari Insomma I template Di Medio Medio e buon livello Di trasformarli In template Con composer Cioè in template Gestibili Tramite In interfaccia Visuale Vi do Una carrellata Di funzionalità Di questo composer Poi vi dico Perché secondo me Vale la pena Provarlo Diciamo La prima Funzionalità È quella Che Ti permette Di regolare La larghezza Delle colonne Della quale Parlavamo prima Una seconda funzionalità Utile È quella Che ti permette Di gestire La larghezza E l'altezza Delle sezioni Che voglio dire Che a volte Nel nostro tema Il nostro tema Ci piace È pulito Ma ci sono le immaginette Che non sono a tutto schermo O che sono a tutto schermo E noi le vorremmo più piccole Ecco Quindi regolare La grandezza Di questi elementi Delle sezioni È un grandissimo vantaggio Farlo Semplicemente Cliccando E trascinando Si può regolare La posizione Delle colonne O degli elementi Anche con il loro margine A volte Ci sono elementi Appiccicati Perché magari Abbiamo Nel nostro template Messo lì Due elementi Uno sopra l'altro Che non erano previsti Per stare insieme Allora Come faccio A creare una distanza Questo elementor Mi permette Di farlo in maniera Molto semplice Sul sito Elementor.com Che vi linko Nelle note Della descrizione Trovate Una descrizione Trovate tutte le funzionalità Inserite in questo plugin Quindi la possibilità Di inserire anche I contatori La possibilità Di cambiare La grandezza Del carattere Di ficcare Da qualche parte Un video Di youtube Di metterci Visto che parliamo Di podcast Un embed Di soundcloud Scusate Creare un pulsante Dovete fare Una call to action Con un pulsante Potete creare Velocemente Un pulsante O inserire Una mappa di google Quindi ci sono Un sacco di funzionalità E fondamentalmente Mi sento Di consigliarvelo Per due motivi Fondamentali Numero uno È open source Quindi avendo Il codice aperto Si presta molto bene Allo sviluppo E al miglioramento Io sono un difensore Dell'open source È qualcosa Che è insito Nel mio DNA Digitale Quando vedo Un programma Open source Subito Questo ha più Affidabilità Di un altro Che invece È legato A un'iniziativa Solo puramente commerciale Con codice chiuso Con impossibilità Per altri sviluppatori Della community Di migliorarlo Il secondo motivo Per cui secondo me Dovreste provarlo E vale la pena provarlo È che è completamente gratuito Cioè non completamente È gratuito Ci sono delle funzionalità Che sono gratuite Che Elementor Gli sviluppatori Si sono impegnati A mantenere gratuite Sempre Come tutte quelle che vi ho descritto Non ne ho descritta una A pagamento Tutte quelle che vi ho descritto Erano funzionalità gratuite E poi ce ne sono alcune A pagamento Come la possibilità Di inserire dei form Da compilare Funzionalità Prettamente commerciali Tipicamente commerciali Legate a un utilizzo commerciale Del sito web Quindi se ci fate i soldi Avrete Sul vostro sito web Avrete sicuramente La possibilità Di reinvestire Un budget Nell'acquisto Di questo plugin Oppure Una price list La creazione di una price list O di un portfolio O il countdown Ecco Queste funzionalità Sono attivabili Solamente Nella versione pro Quindi Se volete Delle funzionalità avanzate Dovete comprare La versione pro Se invece Vi va benissimo Avere le funzionalità Che sono incluse Nella versione di base Potete Tranquillamente Scaricarlo gratuitamente Poi diciamo La versione pro Non è che Ti chiede di fare il mutuo Cioè sono 49 dollari Per un sito O per Tre siti 99 dollari O per Infiniti siti 199 Quindi anche qua Fate 49 Per il template E 49 Per Elementor Avete reso Con Diciamo Modificabile Con composer Un tema Acquistato Che prima Non aveva Il composer Incluso Come si fa A scaricare Elementor E approvarlo Basta andare Su Elementor Punto com In alto a destra C'è un pulsantone Download Date il vostro Indirizzo email E parte subito Lo scaricamento Del plugin Comunque Vi Inserisco Nelle note Dell'episodio Il link Il link A un videotutorial Pallosissimo Ma passo Passo Quindi a volte Quello che serve Di un Di un Un blogger Che ha Creato su youtube Questo tutorial Dove fa vedere Come si installa Il plugin Come si personalizzano I vari elementi Insomma Ve lo fa vedere Ve lo rigira Come un pedalino Elementor Il nostro souvenir digitale E fatemi sapere Mi raccomando Che cosa ne pensate Scrivendo A strategia digitale Chiocciolayumediaweb.com O magari Mandandomi Direttamente Un messaggio Su facebook.com Slash Giulio Gaudiano Su telegram.me Slash Giulio Gaudiano Io personalmente Non l'ho Installato Ancora Quindi sono curiosissimo Di sapere Che cosa ne pensate voi E siamo arrivati Alla fine Della nostra puntata Di oggi Dedicata al souvenir Digitale Io ringrazio Veramente Paolo Per avercelo Segnalato È sempre un piacere Condividere Avere l'impressione Che questo podcast Non è unilaterale Non sono io che parlo a voi Ma io che parlo a voi Voi che parlate a me Insieme Collaborando Condividendo Quello che amiamo Del mondo digitale Possiamo Realmente Crescere insieme Quindi Grazie di cuore Paolo E grazie di cuore A tutti I finanziatori Di Strategia digitale Perché Paolo Gollo È uno di quelli Che ha scelto Di andare Su youmediaweb.com Slash Finanzia E diventare finanziatore Diventare produttore Del podcast Quindi È a pieno titolo Parte della redazione Di strategia digitale Chi sono i finanziatori Grandi finanziatori Roberto Andrioni Con 50 dollari al mese Nicolo Ravanelli Federico Izzi Con 30 dollari al mese E poi Da qui in giù Con 5 dollari al mese Antonino Cotroneo Paolo Gollo Antonino Massimiliano Berto Rosario Rizzo Stefano 2.0 Erika Valiengo Mariano Lampis Gianluca Gorlani Maura Rizzo L'ho detto? Lo ripeto Se non l'ho detto Ah no Era Rosario Maura Rizzo Poi con 3 dollari Marco Bazzo Daniele Rizzi E con 1 dollaro Alessandro Beat Webkarma Fabio Di Maggio E Marco Paolini Ogni mese Tutti questi Contribuiscono A portare Questo podcast Nelle tue orecchie Fallo anche tu E se non l'hai ancora fatto Lascia una bella recensione Sul nostro podcast O scarica la nostra app Tutti i link A queste cose che nomino Sono nelle note Dell'episodio Ragazzi Io voglio ringraziare Di cuore Sara Veltri Coatrice del podcast Il fonico Costanza Mineo E naturalmente Radiospeaker.it Curator del nostro Sound Design Vi aspetto a Milano Vi aspetto questo pomeriggio Se ci siete Mi farà piacerissimo Conoscervi personalmente Ci vediamo In zona Bocconi Alle 4 Grazie mille E alla prossima Strategia digitale Idee, novità e consigli Per imprenditori E professionisti Appassionati di web marketing E business online E business online A cura di Giulio Gaudiano A cura di Giulio Gaudiano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti